Roma merita di più, l'Italia merita di più, la disfatta di Marino è la disfatta di Renzi che l'ha difeso alla faccia di tutto e di tutti, soprattutto dei cittadini romani, quindi non solo Roma perché i primi non sono solo a Roma, penso a Milano, penso a Bologna, penso a Torino è la volta della gente normale, quindi spero che la figura di fango colossale di Marino e del PD avvicini tanta gente normale che abbia voglia di costruire il futuro delle sue comunità votare domani mattina perché in Italia la democrazia è già stata sospesa da troppo tempo